Salve a tutti, belli buoni e farabutti, siete stanchi di essere stressati e incazzati sempre? Prendete lui, il gatto incazzatore personalizzato! E purtroppo le cose che ci fanno arrabbiare sono effettivamente tante e all'ordine del giorno. Pensate che può essere molto utile anche ai disabili? Non so, andate al centro commerciale e c'è sempre il solito imbecille che parcheggia al posto vostro pur non essendo diversamente abile? E perché diversamente strunz però? Perché ha messo pure il tesserino falso e fa finta di niente! Ah, perché? Le strisce gialle sono per i disabili? No, sono per i Simpsons, le strisce blu sono per i buffi e ma fanno pure le strisce marroni, sì! A così parcheggi pure tu per casino piazza e me... E quando ci vuole, ci vuole! Ricordate, il vostro gatto incazzatore personalizzato! Ciao!